Qualcuno ancora oggi crede davvero che lei sia un vero e proprio vampiro che abbia agito spinta dal bisogno di nutrirsi. Tanti altri hanno una spiegazione più razionale. Ma qual è la storia di Tracy Wiginton? E cosa ha fatto per essere soprannominata dai media la killer vampira lesbica? Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi voglio raccontarvi una storia che raga, ve lo giuro, dall'inizio alla fine è semplicemente assurda, allucinante. C'entra anche il paranormale, l'occulto, wow. Molte cose tra l'altro non sono sicure al 100%, tante altre invece purtroppo lo sono e credetemi se vi dico che la storia di Tracy mi ha lasciato a bocca aperta, tantissimo. Direi che non c'è altro da aggiungere, quindi cominciamo subito con il file di oggi. Oggi dobbiamo andare in Australia, più precisamente in una città del Queensland chiamata Rockhampton. Si tratta di una città che ad oggi conta poco più di 80.000 abitanti, ma non mi soffermerò molto sul luogo perché come vedrete ci sarà qualche spostamento nel corso delle vicende. Ad ogni modo è lì, a Rockhampton, che nel 1965 nasce Tracy Wiginton. Sua madre è una donna di nome Rhonda Hopkins, mentre suo padre un uomo di nome Bill Rosborough. Poco la nascita della bambina però, Rhonda si rende conto che non era davvero in grado di prendersi cura di una figlia. L'aveva fatta, forse senza neanche pensarci troppo, ma adesso che era nata era sicura del fatto che non sarebbe riuscita a darle le dovute cure e le dovute attenzioni. Così decide di chiedere ai suoi genitori, ai suoi stessi genitori, di adottarla, ovvero i noni biologici di Tracy. Loro si chiamano Avril e Greg Wiginton e acconsentono praticamente subito all'adozione. Il che può sembrare un bene, no? Almeno la piccola non sarebbe stata con una madre palesemente non in grado di prendersi cura di lei. Eppure, probabilmente, sarebbe stato molto meglio se fosse rimasta con sua madre Rhonda. Greg, infatti, il nonno di Tracy, nonché ormai suo genitore adottivo, non era proprio una persona tranquilla e amorevole. Anzi, prima di tutto Greg era un uomo d'affari piuttosto benestante, secondo quanto riportato dalle fonti. Non sappiamo esattamente quanto, ma abbastanza ad aver avuto il consenso, tra virgolette, di adottare sia Tracy che un'altra bambina di nome Miriam, di cui però purtroppo non ho trovato alcuna foto. Sapete che per adottare c'è bisogno ovviamente di dimostrare di possedere una certa quantità di denaro, di patrimonio comunque, no? Ecco. Le sue qualità, però, le qualità di quest'uomo finivano qui. Greg, infatti, secondo quanto si dice, era un marito particolarmente assente e infedele. A quanto pare, tra l'altro, tutti sapevano che avesse varie storie con varie amanti, eppure sembrava che andasse bene così ad Avril. Oddio, magari non le andava bene, ma ne era conoscenza e per qualche motivo lasciava passare. La cosa peggiore, però, è che quelle storie non gli bastavano. Infatti, ad un certo punto non ben preciso, comunque poco dopo l'arrivo di Tracy, Greg comincia ad abusare delle sue figlie adottive. E intendo abusare anche sessualmente. Avril, in tutto ciò, sua moglie, e questo secondo le dichiarazioni della stessa Tracy, sapeva benissimo tutto ciò che faceva suo marito. Era stata anche informata riguardo gli abusi sulle due bambine, ma anziché proteggerle, e comunque proteggere se stessa da quest'uomo, Avril decide di sfogare tutta la sua frustrazione, tutta la sua rabbia repressa, proprio sulle bambine. Il che è davvero triste, cioè, non lo so. In particolare, sempre secondo le dichiarazioni di Tracy, perché quello che sappiamo si basa quasi interamente su quello che ha detto poi lei in futuro, in particolare Avril comincia ad essere particolarmente violenta nei confronti di Miriam, l'altra ragazzina adottata dalla coppia. Addirittura Tracy racconta che Avril era arrivata a picchiare Miriam fino a quattro volte al giorno. Una volta addirittura la donna ha preso Miriam e l'ha trascinata fuori di casa, l'ha legata ad una sorta di palo, però piuttosto nascosto in modo tale che nessuno potesse vederla, e l'ha lasciata lì per tutta la notte. Avril, insomma, era veramente una persona strana e violenta. Però non era violenta con proprio tutti, anzi lo era solo con le figlie adottive, perché, d'altro canto, amava i suoi chihuahua. Si prendeva cura di loro veramente manco fossero i suoi figli, che oddio, conoscendola forse è meglio così. Dava loro comunque da mangiare carne di qualità, li coccolava in qualsiasi momento. Insomma, trattava meglio quei cagnolini che le bambine, il che era, dice, davvero lunga sul suo conto. Mentre i cani venivano trattati da Dio, come dovrebbero essere trattati in realtà, le bambine, soprattutto Miriam, venivano picchiate in continuazione per i motivi più futili. Un ambiente decisamente malsano in cui crescere, no? Comunque, Tracy durante quegli anni si trova da sola, nella sua stanza, poche volte. E quelle poche volte comincia a leggere vari libri di vario tipo. Ma capisce molto in fretta che in realtà i libri che la affascinano di più, che la interessano di più, sono molto particolari. Inizia infatti a leggere libri sull'occulto, sulla stregoneria, e sul paranormale o in generale libri che parlano di storie dell'altro mondo. Così, quello diventa il suo modo per fuggire dalla realtà, il suo posto sicuro. Oltre a questo non sappiamo molto altro sul suo passato, sulla sua crescita, se non che crescendo i suoi amici hanno dichiarato che le piaceva vestirsi di nero ed era piuttosto tranquilla e pacata, silenziosa, proprio in generale. E ci credo, dato che viveva in un posto del genere, con persone del genere. Probabilmente non le era neanche permesso parlare troppo e esprimersi quando e come voleva. Quindi era ovvio che anche fuori dal contesto domestico fosse così. Quando Tracy arriva in seconda superiore, il suo padre adottivo, quel mostro di Greg, muore. E poco tempo dopo, Avril trova subito un altro compagno. Con questa nuova conoscenza, ovviamente, le ragazze sperano che la situazione sarebbe migliorata, che questo nuovo uomo nella vita di Avril sarebbe stato magari più tranquillo, più amorevole, più normale, semplicemente, e in effetti sicuramente si rivela essere migliore di Greg, ma neanche troppo. Questo nuovo uomo, infatti, non abusa delle figlie adottive di Avril, ma abusa proprio di lei, fisicamente, come faceva Greg. Un giorno, però, davanti a Tracy, l'uomo tira uno schiaffo ad Avril e la ragazza, assistendo a questo ulteriore episodio di violenza, e rimanendo, penso, delusa, si incazza talmente tanto che gli salta addosso e lo attacca con tutta la rabbia che ha in corpo. Vi dico solo che finisce per rompergli il naso e gli infila anche l'apparecchio acustico su per l'orecchio. Insomma, tanto tranquilla e pacata questa Tracy, ma attenzione a farla incazzare. Penso che questo comportamento, in realtà, fosse facilmente prevedibile. Fino a quel momento, la ragazza non aveva mai visto altro se non violenza. Ma violenza di ogni tipo, sin da piccolissima. Quindi, insomma, non mi stupisco. Poco dopo questo episodio violento, Avril muore per cause naturali, lasciando completamente sola Tracy. Perché sì, a quanto pare, arrivati a questo punto, Miriam non era più in casa con loro, ma vi giuro, non sono proprio riuscito a trovare il motivo. Ad un certo punto si perdono totalmente le sue tracce, ad un certo punto della storia, e non sono proprio riuscito a capire il perché. Fatto sta che Tracy è adolescente, si ritrova da sola, e quindi decide di andare a vivere per un periodo con i suoi genitori biologici. Rhonda e Bill. Però, per qualche motivo sconosciuto, questa convivenza non va molto bene. E poco dopo, Tracy va a vivere da degli amici di sua madre. Strano? Sicuramente sì. E non si sanno nemmeno i dettagli, vabbè. Questi amici della madre si chiamano Catherine e Ron. E non esiste una loro foto da nessuna parte. La storia, ragazzi, si fa sempre più strana, fidatevi. Secondo le dichiarazioni di Tracy, quest'uomo, Ron, ha cominciato ad abusare sessualmente di lei. Il che, veramente, qualora fosse andata davvero così, e penso di sì, perché vi ricordo che sono sempre le dichiarazioni di Tracy, sarebbe davvero straziante. Cioè, sembra come se in qualsiasi posto andasse, questa povera ragazza venisse sempre e comunque abusata in qualche modo. Ah, e tenete a mente che, in questo periodo Tracy ha circa 16 o 17 anni, quindi sicuramente non maggiorenne e non consenziente. Ma oltre a questo, Tracy scopre presto che Ron abusava sessualmente anche della sua stessa figlia. Veramente, ha incontrato un mostro dopo l'altro, questa ragazza. Dopo esserne venuta a conoscenza, comunque, Tracy decide di fare la cosa giusta e raccontare tutto quanto a Catherine, la moglie di Ron. Le racconta sia che l'uomo abusava di lei che della loro stessa figlia. Quindi Catherine, meno male, e finisce per sbattere fuori di casa Ron, finalmente. E probabilmente ora starete pensando, ok, Tracy finalmente al sicuro, no? No. Questa storia ve lo giuro. A quanto pare, sempre secondo Tracy, anche questa Catherine aveva una sorta di attrazione per le persone giovanissime, capitemi. E quindi anche lei ha cominciato a fare delle avance sessuali verso Tracy. Vi immaginate? Questa povera ragazza non poteva stare tranquilla un secondo. Oddio. Comunque, Tracy, ovviamente, non si trova bene nemmeno lì e nemmeno una volta che Ron si era tolto dai piedi. Ma all'età di 18 anni, finalmente, arriva qualcosa che le avrebbe per sempre cambiato la vita. Ricordate Greg, no? Il suo nonno biologico, nonché tutore legale. Ecco. Finalmente, all'età di 18 anni, Tracy riceve la sua ingente eredità, composta principalmente da beni immobili. E questo le permette finalmente di assaporare la libertà. Letteralmente di liberarsi. Di andare via da quella casa, di divertirsi, esplorare se stessa e il mondo. Quell'eredità le avrebbe permesso di non preoccuparsi dei soldi, almeno per un po'. Le avrebbe anche permesso di avere un tetto tutto suo sopra la testa. Ma soprattutto di stare lontana dagli abusi. È in questo periodo che Tracy si taglia i capelli. Inizia a vestirsi da motociclista e viaggia per tutto il paese. In questa parentesi della sua vita, la ragazza letteralmente esplora. Comincia ad avere tante relazioni amorose. Amorose? Sì, vabbè. Avete capito. E in generale scopre se stessa e il suo corpo. Tracy ha dichiarato che sapeva da quando era piccola di essere omosessuale e ora che era finalmente libera da ogni ostacolo, poteva senza dubbio fare le esperienze che meritava di fare. Passa così qualche anno. Fino a quando all'età di 22 anni, la nostra Tracy conosce una donna di nome Debbie. La cui identità, a quanto pare, non si conosce. Cioè non sono proprio riuscito a trovare il suo cognome né tantomeno una sua foto. Ad ogni modo, le due si conoscono, cominciano a frequentarsi e capiscono in fretta di trovarsi molto bene insieme. Così decidono di mettersi insieme ufficialmente e andare a convivere a Brisbane, sempre nel Queensland, ma a ben 600 km di distanza da Rockhampton. Rockhampton. Qui la ragazza avrebbe potuto letteralmente farsi una nuova vita, ricominciare da capo, essere una persona diversa. Ed è proprio quello che ha fatto, ma nel peggiore dei modi. All'inizio della relazione tra le due ragazze va tutto serenamente, tutto rose e fiori. All'inizio. Le due infatti staranno insieme per circa due anni, ma negli ultimi sei mesi di relazione le cose avevano cominciato a farsi insostenibili. In quel periodo infatti le due litigano molto spesso, non si trovano d'accordo praticamente su nulla e capiscono che avrebbero raggiunto presto un punto di rottura. Così, per evitare che tutto svanisse e che la relazione finisse improvvisamente, prendono una decisione importante insieme, che sarebbe stata come l'ultima chance tra loro due. Decidono di avere una relazione aperta e in quell'epoca comunque non era affatto usuale questo tipo di relazione, no? Ma vabbè, fatto sta che decidono così e in questo modo avrebbero potuto avere nuovi partner sessuali, pur rimanendo insieme, non dovendosi trasferire, eccetera. questa, in teoria, era una buona idea per Tracy. Non c'era nulla che le facesse pensare che poteva essere distruttivo. Alla fine sarebbe servito per ravvivare il loro rapporto. Peccato però che Tracy si rende conto che le andava bene solo in teoria, perché quando effettivamente Debbie comincia a vedersi con altre persone, insomma, Tracy non è che ne rimane proprio contenta, anzi capisce che questa cosa non le piaceva affatto. Pensate, quando Debbie portava dei partner in casa e aveva comunque relazioni amorose con loro mentre Tracy era letteralmente nell'altra stanza e li sentiva, quest'ultima perdeva la testa. Cioè, penso non sia esattamente facile accettare una situazione del genere se non si è appunto poligami al 100%. E questa situazione quindi alla fine rende Tracy furiosa e basta. Perciò si rende conto che quando Debbie portava a casa qualcuno sarebbe stato meglio se lei non si trovasse in casa, no? In modo da non sentire proprio le fusioni tra la sua ragazza ed altre persone. Quindi, dopo averci riflettuto, fa proprio così. Tracy comincia ad uscire ogni volta che Debbie porta qualcuno in casa. Lo fa per svagarsi, per buttare fuori la sua frustrazione e magari perché no trovare anche lei qualcun altro con cui avere dei rapporti. Ed è così che incontra la 24enne Lisa Tashinsky Tashinsky non so come si pronunci e anche Tracy a sto punto ha 24 anni. Ma parliamo un attimo di questa Lisa. Allora, Tracy e Lisa dopo essersi conosciute capiscono subito di avere molte cose in comune. Entrambe amavano uscire, divertirsi, a entrambe piacevano le donne ovviamente e soprattutto ad entrambi affascinava parecchio l'occulto e tutto ciò di macabro e oscuro che il mondo ha da offrire. Le due creano un vero e proprio legame proprio su quest'ultima cosa. Iniziano così a frequentarsi ed avere anche una sorta di relazione secondo alcuni solo sessuale e secondo altri anche piuttosto amorosa. Lisa poi oltre a tutto ciò aveva anche due amiche strettissime che ovviamente presenta quasi subito a Tracy. Queste erano le 23 anni Kim Gervis e Tracy sì un'altra Tracy ma lei Tracy Ann Vo 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 non lo so ve lo scrivo comunque. Le quattro si trovano subito molto bene e formano in fretta un gruppo coeso e unito. La nostra Tracy aveva proprio bisogno di una roba del genere alla fine no? Quindi tutto perfetto aveva finalmente un gruppo con cui divertirsi svagarsi non pensare a tutto il male che il mondo le aveva fatto da questo momento ogni volta che si ritrovava costretto ad uscire perché Debbie portava gente a casa lei semplicemente contattava le sue nuove amiche e loro erano sempre pronte a stare con lei farle compagnia insomma passare del tempo insieme tutto davvero perfetto no? All'apparenza sì peccato però che Tracy con questo nuovo gruppo di amiche ha deciso di non dire proprio tutta la verità riguardo alla sua vita alla sua persona alla sua storia anzi diciamo che si è inventata un po' di cose per apparire ok? Ed è anche comprensibile visto il suo passato tormentato sicuramente non avrebbe fatto buona figura se avesse raccontato tutto subito a queste sue nuove amiche peccato però che ha un pelino esagerato Tracy infatti poco dopo averle conosciute ha colto l'opportunità per apparire una persona più misteriosa e interessante ai loro occhi un giorno infatti mentre è con loro dice alle ragazze di avere una come si dice una natura vampirica dice loro di essere un vampiro praticamente probabilmente l'ha fatto per via di tutti i libri che si era letta e che continuava a leggere riguardo l'occulto ma anche riguardo i vampiri e così via comunque dato appunto che sapeva moltissimo riguardo l'argomento risulta anche piuttosto convincente agli occhi delle nuove amiche dice quindi loro che di base lei si nutriva solo ed esclusivamente di sangue umano ma che nell'ultimo periodo aveva dovuto darsi un contegno e era sopravvissuta bevendo sangue animale perché uccidere delle persone per saziarsi era ovviamente troppo sospetto e pericoloso e pensate ha detto tutto ciò prima di Twilight chissà se si sono ispirati a lei per descrivere i vampiri di quel film non lo so potrebbe essere vabbè fatto sta che dice appunto questa cosa degli animali ma aggiungendo che proprio per questo motivo ultimamente moriva dalla voglia di sangue umano a questo punto Tracy entra proprio definitivamente nella parte della vampira tra virgolette perché con le sue nuove amiche era stato piuttosto facile crearsi questa nuova immagine e per rendere il tutto ancora più credibile ad un certo punto Tracy arriva perfino a chiedere alla sua amica Lisa amica barra amante se potesse bere un po' del suo sangue le dice che sarebbe bastato proprio qualche goccia qualche sorso Lisa avrebbe dovuto farsi un piccolo taglio al polso e via dicendo farle bere ovviamente tutto quello che usciva dal polso comunque in questo modo la sua sete incessante di sangue si sarebbe momentaneamente placata e Lisa a quanto pare accetta questa sua proposta non ne sono sicuro al 100% ma sembra che anche a lei piacesse tutta questa storia della vampira cioè no questo è sicuro le piaceva tutta questa storia però non sono sicuro al 100% riguardo al taglio e riguardo al far bere il sangue a Tracy in ogni caso sembrava che tutta questa storia la eccitasse quindi non è sicuro se effettivamente Lisa ha permesso di bere il suo sangue a Tracy ma secondo le parole di Tracy ed è la stessa Lisa è successo però non possiamo esserne sicuri Lisa anzi comincia anche a parlarne con le altre amiche dicendo di averlo fatto dicendo che Tracy aveva bevuto il suo sangue questo ovviamente non fa altro che aumentare la credibilità di tutta questa storia a questo punto le ragazze sono praticamente convinte che è vero Tracy deve per forza essere una vampira e così arriva la notte del 20 ottobre del 1989 quella notte è un venerdì e le quattro amiche escono tutte insieme per andare a festeggiare girano per vari locali notturni di Brisbane chiacchierano bevono un po' e si divertono un sacco ad un certo punto della serata però all'improvviso Tracy diventa serissima le guarda tutte negli occhi e dice ho bisogno di un vero drink loro capiscono immediatamente a cosa si riferiva Tracy voleva bere del sangue umano le tre ragazze dovete sapere avevano comunque un po' di paura di Tracy giustamente cioè erano convinte che fosse una vampira e sebbene fosse una cosa figa per loro erano giustamente intimorite dalla ragazza perché loro erano delle potenziali prede quindi per questo accettano di fare un giro con lei alla ricerca della sua vittima secondo alcuni le ragazze non credevano davvero che bevesse sangue umano e proprio per questo hanno accettato di andare con lei per vedere fino a dove si sarebbe spinta per vedere se in effetti avrebbe ucciso o ferito solo per sfamarsi ma comunque siano andate davvero le cose le ragazze salgono in macchina e cominciano il loro giro di prelustrazione dopo poco tempo trovano la vittima perfetta un uomo di nome Edward Baldock di 47 anni oddio Edward è il nome del protagonista di Twilight secondo me si sono ispirati a questo cavolo comunque le ragazze vedono Edward uscire da un locale in stato visibilmente alterato tipo barcollava quella notte Edward era uscito e aveva passato la notte a bere con dei suoi amici aveva bevuto molto e quando le ragazze l'hanno visto era da solo che stava aspettando un taxi per tornare a casa nessuno in quel momento stava guardando nessuno era con lui così Tracy decide che quella sarebbe stata la sua vittima lui d'altro canto ovviamente non trova un taxi ma un'auto con all'interno quattro ragazze giovani che si erano offerte di dargli un passaggio e non solo ora non è chiaro il metodo in cui si siano approcciate a lui in alcune fonti si dice che Tracy l'ha convinto a salire in macchina dicendo che avrebbero avuto dei rapporti con lui in altre invece si parla solo del fatto che gli hanno offerto un passaggio e poi una volta tutti dentro l'auto gli hanno detto di voler avere dei rapporti sessuali con lui in ogni caso Edward sale in macchina e parte in compagnia delle giovani donne che non avevano né intenzione di portarlo a casa né di farci roba a questo punto però voglio soffermarmi un attimo su Edward perché era così ubriaco perché ha accettato il passaggio delle ragazze chi era? allora quasi ovunque per via delle dinamiche di questa vicenda particolarmente macabre si parla solo di Tracy e delle sue amiche e si dipinge Edward come un semplice ubriacone pronto ad andare con la prima che capita in realtà non è proprio così Edward dovete sapere è un padre di cinque figli e nonno di due bambini un uomo che ama il suo lavoro ama la spiaggia e soprattutto la sua famiglia ed è proprio la sua famiglia a parlarci di lui a distanza di anni dai fatti in particolare sua moglie Hélène e sua figlia che ironia della sorte si chiama proprio Tracy le due parlano di lui come un uomo amorevole e sempre pronto per passare il tempo con loro Edward metteva i figli e i nipoti al primo posto e nonostante fosse spesso assente per via del lavoro ogni volta che tornava passava momenti bellissimi con la sua famiglia insieme andavano spesso in spiaggia e facevano una volta a settimana la serata pizza preparata proprio da loro in famiglia in un momento di unione e condivisione ogni settimana raccontano anche che Edward amava giocare a freccette e quella sera la sera del 20 ottobre dell'89 si trovava al bar proprio per un torneo di freccette con i suoi amici purtroppo però si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato i cinque sull'auto guidano per circa dieci minuti e arrivano all'Hourley Park di Brisbane un parco che affaccia su un fiume in quel momento Edward diciamo che non si preoccupa affatto perché in un modo o nell'altro sapeva che si trovavano lì per consumare dei rapporti ecco questa cosa già mi ha fatto un po' storcere il naso perché cozza completamente rispetto alle dichiarazioni dei suoi familiari cioè fosse stato davvero un marito padre e nonno così amorevole sicuramente non avrebbe accettato di andare con delle sconosciute no? non lo so strano ad ogni modo le ragazze arrivano lì con un piano ben definito in mente Tracy aveva detto a Lisa di avvicinarsi all'uomo di soppiatto durante un momento di distrazione e una volta accolto di sorpresa di accolterlo così che lei avrebbe potuto bere il suo sangue Lisa all'inizio ci è stata ha detto sì va bene lo faccio anche a lei comunque affascinava molto questa storia del vampirismo e voleva vedere la sua amante in azione quindi in teoria era disposta a procurarle anche del cibo uccidendo una persona innocente quindi con questo piano in mente Tracy dice ad Edward di andare alla riva del fiume insieme a lei Lisa e Kim mentre l'altra Tracy decide di rimanere in macchina perché non vuole avere niente a che fare con tutto ciò l'unica intelligente di loro direi vabbè opinabile anche questo comunque una volta arrivati alla riva del fiume Tracy si toglie il top e dice ad Edward di togliersi i vestiti e mentre lui comincia a spogliarsi Tracy gli dice che sarebbe andata a due secondi a fare pipì e che sarebbe tornata subito dopo in quel momento Lisa ci ripensa era diventato tutto troppo reale nella sua fantasia avrebbe ucciso per Tracy ma ora che era diventata davvero una possibilità non se la sentiva più così Lisa si tira indietro lo comunica anche a Tracy che un po' amareggiata si ripende il coltello e si prepara per un cambio dei piani intanto Edward continua a spogliarsi e riporre accuratamente i suoi vestiti piegati assurdo sulla riva del fiume ignaro di tutto quanto e Lisa e Kim tornano in macchina per aspettare che la vampira si nutrisse Tracy quindi comincia a tornare verso Edward che a questo punto è completamente nudo fatta eccezione per i calzini camminando verso di lui continua a fissarlo insistentemente e quando lui se ne accorge le dice tipo che fai? e lei niente e poi d'improvviso estrae il coltello e comincia a pugnarlo colpendolo inizialmente al collo l'uomo prova a difendersi praticamente subito a togliersi Tracy di dosso ma semplicemente non ci riesce Tracy è troppo forte e gli ha già inflitto una ferita potenzialmente mortale a quel punto estrae il coltello dal suo collo e procede a colpirlo di nuovo questa volta ripetutamente nell'altro lato del collo e nella gola lo fa talmente forte talmente tante volte raga da rompergli le ossa del collo poi lo gira a pancia in giù e procede a colpirlo altre volte alla schiena per poi finire con un'ultima ferita al collo lo ha colpito un totale di 27 volte ragazzi 27 volte sono tantissime a volte nemmeno nei crimini passionali si arriva a un numero tanto elevato con un'arma da taglio e questo è stato invece un omicidio totalmente senza senso Tracy non conosceva la vittima lui non le aveva fatto niente non c'era dell'odio tra i due quindi questo accanimento da parte di Tracy fa semplicemente venire i brividi perché non è molto spiegabile ok e la cosa tanto strana deve ancora arrivare un comportamento davvero difficile da capire Tracy praticamente una volta finito col corpo di Edward a pancia in giù procede a mettere le dita delle ferite della schiena e non saprei come dire comincia a muoverle ok come per giocarci come per stimolarle se è sufficiente ecco passatemi il termine e dopo aver fatto ciò si lecca il sangue dalle dita sicuramente un comportamento che non ci si aspetterebbe da un vampiro assetato di sangue in altre fonti infatti si dice che non abbia mai fatto quella cosa delle dita ma abbia direttamente bevuto il suo sangue dal collo fatto sta che dopo tutto ciò Tracy tranquillamente si fuma una sigaretta a fianco al corpo morente di Edward dopo aver fatto tutto ciò Tracy si sciacqua dal sangue nel fiume e si dirige verso l'auto per raggiungere le sue amiche una volta lì chiede a tutte se volessero vedere il corpo e secondo quello che dichiareranno in seguito le ragazze in quel momento potevano sentire chiaramente l'odore del sangue provenire da Tracy tipo nel suo alito quindi ok significava che l'aveva fatto davvero che era una vampira comunque alla domanda di Tracy su chi volesse vedere il corpo rispondono Kim e Lisa che effettivamente scendono dall'auto insieme a Tracy e si avvicinano ad Edward l'altra Tracy intanto decide ancora una volta di rimanere in macchina non voleva assolutamente vedere niente e direi giustamente cioè non so io penso sarei scappato fosse stato in lei comunque le altre le altre tre si incamminano e vedono per un secondo il corpo della vittima subito dopo tornano in macchina e se ne vanno lasciando Edward lì nudo mutilato e senza vita non ci vorrà molto agli agenti per trovare il suo corpo infatti solo il mattino seguente la polizia trova Edward nel parco vicino al fiume ma insieme a lui trovano anche una prova schiacciante raga dentro una delle sue scarpe trovano la carta di Tracy il suo bancomat con scritto Tracy Wiginton è assurdo che cavolo è successo perché il suo bancomat si trovava lì non c'è una risposta certa a questa domanda in qualche modo il suo bancomat è scivolato lì forse per sbaglio forse volutamente dalla stessa Tracy in ogni caso la polizia non pensa che il proprietario di quella carta sia l'assassino perché uno quale cavolo di assassino è mai stato così stupido da farsi cadere la carta di credito carta di debito lì proprio nella scena del crimine nessuno e due per loro l'intestatario della carta poteva sapere qualcosa ma non poteva essere l'assassino e tra un attimo ci arriviamo sicuramente in ogni caso questa Tracy Wiginton doveva avere delle informazioni no? così ci mettono pochissimo tempo a rintracciarla e a parlare con lei per chiederle se sapesse qualcosa e lei sorprendentemente dice agli investigatori che quella sera effettivamente si trovava al parco ma non aveva idea di che cosa fosse successo a quell'uomo dicendo anche di non conoscerlo e loro subito ci credono perché la polizia era fermamente convinta che non poteva essere stata una donna a commettere quel crimine atroce la scena del crimine era semplicemente troppo raccapricciante per cui erano convinti che fosse per forza stato un uomo qualcuno che conosceva bene Edward anche per via delle 27 coltate che ricondurrebbero come vi ho detto prima ad un crimine passionale Tracy però non aveva niente a che fare con lui per loro non poteva essere stata lei così la lasciano andare eppure non passa molto tempo che una delle persone che era con lei quella sera decide di farsi avanti quando ci sono così tanti testimoni è praticamente ovvio che prima o poi uno di loro parli in questo caso è Lisa Lisa non riesce proprio a sostenere il peso e la gravità di quello che aveva fatto Tracy quindi alla fine decide di andare alla centrale di polizia e raccontare tutto quello che era successo agli agenti ovviamente anche le altre ragazze dopo la confessione vengono portate alla centrale per gli interrogatori e le tre che hanno assistito quindi Lisa, Kim e l'altra Tracy diciamo che esagerano un po' nel descrivere la nostra Tracy ok dicono agli agenti infatti che lei non era solo un vampiro ma qualcosa di più macabro di più pericoloso Tracy stessa infatti aveva detto loro più volte che era la moglie di Satana e per questo poteva manipolare le persone intorno a lei e controllarle a suo piacimento ed è proprio per questo dicono loro che non potevano fermarla o non assecondarla non andare con lei perché in quel momento nel momento dell'omicidio erano sotto il suo controllo mentale insomma non che gli agenti ci credano troppo giustamente penso fosse un modo per togliersi un po' di colpe di dosso oppure davvero erano convinti di tutte queste cose non si sa non possiamo saperlo secondo me era un modo per togliersi un po' di colpe di dosso ad ogni modo grazie alle prove e soprattutto alle confessioni Tracy viene di nuovo rintracciata e finalmente arrestata e qui ragazzi parte tutto un casino finalmente ci avviciniamo alla parte delle personalità che so che siete curiosi wow Tracy all'arresto non fa alcuna resistenza ed ammette subito di aver fatto tutto ciò che avevano detto le sue amiche e in quel momento i dettagli dell'omicidio le dichiarazioni delle sue amiche e così via cominciano anche ad arrivare ai media e qui ragazzi immaginatevi il casino fine anni 80 una ragazza lesbica che dice di essere un vampiro nonché la moglie di satana e un omicidio grottesco senza senso avvenuto per mano sua ovviamente i media sono impazziti era una storia troppo scioccante per l'epoca oddio lo sarebbe ancora oggi ma con tutti quei dettagli il fatto che centrasse in qualche modo anche l'occulto e il fatto che Tracy fosse lesbica che a quell'epoca faceva parlare tantissimo ovviamente hanno proprio fatto sì tutto questo insieme che si diffondesse il panico la faccia di Tracy comincia ad apparire ovunque ed è qui che viene dato il soprannome killer vampira lesbica è anche per questo che non è mai stata data rilevanza alla storia di Edward cioè la vittima ma solo a quella di Tracy il che ovviamente è molto triste infatti non si sa praticamente nulla di Edward ad ogni modo i processi per tutte le ragazze cominciano e vengono letteralmente invasi di persone la notizia davvero aveva fatto il giro del mondo quindi non c'era neanche da sorprendersi per settimane vengono raccolte testimonianze vengono esposte le prove e Tracy non viene neanche fatta presenziare i processi delle altre ragazze perché lei era già in arresto e in una cella e durante i processi delle sue amiche non era in aula il che non ha fatto altro che mistificarla ancora di più perché tutte le persone che erano lì ad assistere al processo ne sentivano parlare esclusivamente come questa vampira moglie del diavolo e insomma che ha commesso uno dei crimini più brutali che avessero mai sentito cioè per questo ancora oggi c'è chi crede che sia tutto vero che lei davvero fosse un vampiro le ragazze al processo continuano a sostenere che Tracy non era una persona ma più un'entità paranormale e che al momento dell'omicidio le loro menti erano totalmente offuscate e controllate da lei che così le ha costrette ad assisterla durante l'omicidio ricordate Debbie la fidanzata ufficiale di Tracy ecco anche lei ha testimoniato il processo di Tracy e mentre lei era lì Tracy ha detto che se quella sera fosse rimasta a casa con lei probabilmente avrebbe ucciso proprio lei Debbie gli era detto davanti praticamente molti credono che l'inizio della relazione aperta con Debbie abbia fatto emergere in Tracy tutti i suoi traumi passati e abbia anche aiutato ad accumulare talmente tanta rabbia che era inevitabile che prima o poi sarebbe esplosa Tracy proprio non riusciva ad accettare quando Debbie stava con altre persone per cui è plausibile che da quel momento la sua salute mentale sia andata ancora più in declino ad ogni modo Debbie al processo racconta che la notte dell'omicidio quando Tracy è tornata a casa si comportava in maniera piuttosto strana inizialmente era molto energica sembrava in uno stato di alterazione molto euforica ok aveva un sacco di adrenalina in corpo poi poco dopo Debbie racconta l'ha guardata e le ha detto qualcosa del tipo vai in camera da letto ho appena visto un cadavere dopo averle detto questa cosa hanno fatto sesso una volta consumato il rapporto durante la notte Debbie racconta che Tracy continuava a girarsi e rigirarsi nel letto ripetendo in continuazione le parole è tutto reale è reale è tutto reale cioè si stava chiaramente rendendo conto di ciò che aveva fatto ad ogni modo torniamo al suo processo quello di Tracy dovete sapere che la ragazza non si è presentata molte volte in aula né al suo processo né a quello delle amiche e il motivo è che semplicemente qualche settimana prima durante tutti questi processi era stata sottoposta a dei test psicologici e psichiatrici per comprendere se fosse in grado di sostenere il processo ed è a questo punto che viene fuori tutta la storia delle personalità multiple una parte davvero interessante ragazzi di questo caso molto psicologi e psichiatri che hanno avuto modo di parlare con lei si sono diciamo divisi in diverse categorie alcuni pensano non soffrisse del disturbo dissociativo dell'identità mentre molti altri la maggior parte si e alcuni di questi credevano che Tracy avesse quattro personalità principali e una diciamo secondaria che saranno ovviamente le prime che vi descriverò mentre altri ancora ne ipotizzano addirittura sei e tra queste sei ne hanno individuate un paio davvero terrificanti ma andiamo con ordine per cercare di capire bene la psiche di Tracy l'hanno sottoposta tra le tante altre cose a più di 26 ore di ipnosi e durante queste ipnosi gli esperti hanno rivelato quattro personalità principali nella ragazza la prima Tracy adulta o Tracy grande è una giovane donna che soffre di ansia e di depressione probabilmente la personalità che si avvicina di più a come era davvero Tracy una donna comunque connessa con la realtà che sa di aver fatto qualcosa di terribile e probabilmente ne è terrorizzata la stessa Tracy si ipotizza che la notte dell'omicidio si girava e rigirava sul letto dicendo è tutto reale è tutto reale secondo gli psichiatri la grande Tracy è anche la stessa che ha lasciato volutamente la sua carta il suo bancomat dentro la scarpa di Edward perché forse già si era resa conto di quello che era successo di quello che aveva fatto e voleva essere arrestata forse poi c'è la piccola Tracy una versione innocente pura ma spaventata la se stessa bambina una personalità che secondo gli esperti è emersa dopo i primi abusi sessuali probabilmente come difesa e che poi non è più ricomparsa la terza personalità che viene scoperta invece è l'osservatore questa è l'unica parte di Tracy totalmente senza emozioni e sentimenti si limita appunto ad osservare è sempre lì in disparte dietro le quinte che prende nota di tutte le altre personalità prende nota di tutto e organizza tutto quanto insieme mette insieme le esperienze i sentimenti delle altre personalità e lo fa in una maniera totalmente apatica come un computer la quarta personalità rilevata è Bobby un uomo un motociclista cazzuto cioè proprio un macio una persona dura e irremovibile che può risultare a volte anche cattiva per via dei suoi modi truci ma in generale un uomo deciso con un carattere forte e rigido ecco alcuni esperti credono che sia stato Bobby quella notte ad uccidere Edward anzi in realtà la maggior parte di loro credono sia stato Bobby ma non da solo allora queste erano le quattro personalità principali che diciamo mettono d'accordo più o meno tutti gli esperti ma allora perché diceva di essere vampira cioè dov'è la personalità vampirica non c'è se pensate che c'era non c'è se ricordate Tracy o una delle sue personalità aveva cominciato questa storia dei vampiri per fare colpo sulle altre quindi non c'è una vera e propria personalità che si identifica come un vampiro ma ce ne sono altre due molto discusse dagli psichiatri una delle quali addirittura peggio una è una sorta di agglomerato di tutte le altre ok e non sarebbe altro che Tracy praticamente Tracy com'è cioè o meglio Tracy normale cioè com'è nelle giornate di tutti i giorni ok è un agglomerato e si chiama la personalità ospite molti esperti poi concordano sul fatto che la ragazza avesse un'ultima figura dentro di sé una personalità ombra una personalità che non si fa mai avanti sul serio ma che resta sempre dietro le quinte a manipolare tutte le altre e di conseguenza a manipolare le azioni di Tracy si tratterebbe del lato malvagio della ragazza perché molti esperti credono sia stata proprio quest'ultima a manipolare e anzi obbligare la personalità di Tracy che si chiama Bobby ad uccidere Edward cioè questa personalità ombra ha proprio costretto la personalità Bobby a commettere un omicidio e sapete qual è il nome di questa personalità? April un nome molto simile a Evril la sua nonna biologica quella che ha badato a lei e soprattutto ha bruciato di lei quanto interessante tutto ciò non lo so mi hanno sempre affascinato molto le personalità multiple e direi che in questo caso ha anche senso che fosse così perché Tracy non aveva vissuto altro che traumi durante la sua vita quindi è lecito che la sua psiche per difendersi e distaccarsi da questi traumi da questo dolore si sia fratturata in diverse personalità e la difesa infatti al processo sostiene proprio questo ritenendo Tracy innocente per infermità mentale la giuria tuttavia pur tenendo conto delle condizioni psichiche della ragazza consiglia comunque una condanna quindi alla fine Tracy si dichiara colpevole dell'omicidio e viene condannata all'ergastolo con la possibilità di richiedere la libertà condizionale dopo 13 anni per le altre ragazze invece è andata diversamente più o meno tutte e tre continuavano infatti a dire che Tracy era davvero una vampira che aveva il potere di controllare le loro menti eppure la giuria non ci credeva per questo Lisa l'amante di Tracy viene condannata anche lei all'ergastolo per aver comunque aiutato in qualche modo durante l'omicidio non lo so in questo caso sicuramente lei aveva l'intenzione però poi si è tirata indietro quindi forse mi sembra un po' troppo la condanna comunque Lisa verrà rilasciata poi nel 2008 in libertà condizionale quindi ci sta secondo me alla fine Kim invece sempre per aver aiutato diciamo viene condannata a 18 anni per omicidio colposo ridotti in seguito a 12 mentre l'altra Tracy quella che è rimasta in macchina per tutto il tempo perché non voleva assolutamente assistere non voleva avere niente a che fare intelligente non è stata proprio condannata è stata assolta innocente vorrei dire che è finita qui ma più o meno Tracy infatti nel 2012 esce dal carcere in libertà condizionale e poco dopo su Facebook pubblica delle frasi diciamo preoccupanti del tipo sono tornata bastardi oppure ora panico perché sono tornata ecco possiamo dire che queste parole condivise sui social da un assassino non fanno proprio presagire il meglio infatti l'account è stato poi chiuso e si sono perse le sue tracce ad ogni modo Tracy oggi è libera e in teoria non ha più commesso crimini almeno non che noi sappiamo come ultimissima cosa però volevo leggervi alcune parole che ha detto Tracy durante un'intervista dal carcere nel 1996 parole che fanno intendere la possibilità che la donna agisca ancora in quell'intervista disse l'omicidio è un'esperienza terrificante è estremamente spaventoso avere così tanto potere è come giocare a fare dio con la vita e la morte nessuno dovrebbe avere un potere del genere eppure lo abbiamo tutti non lo so raga a me sembra piuttosto preoccupante non so a voi fatemi sapere come sempre cosa pensate di tutta questa storia io l'ho trovata estremamente spaventosa velo giù cioè proprio dall'infanzia dall'inizio inizio inizio fino all'omicidio fino anche poi alle personalità eccetera tutto quanto spaventoso macabro strano ok avevo visto questo volto più volte nel corso della mia vita ma non mi ero mai soffermato ad approfondire e non immaginavo che si nascondesse così tanto marcio dietro questa storia comunque se in qualche modo anche oggi vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video oppure un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto vi racconterò la storia tristissima di una ragazza incompresa che è stata presa di mira da persone orribili ignoranti ignobili che mio dio mi sto già incazzando spero quindi che rimarrete nei paraggi no veramente che storia brutta per cui se vi ho incuriositi non dimenticate di iscrivervi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao